C'è bisogno di una svolta. Reduce da quattro sconfitte consecutive, con il morale sotto i tacchi e con una situazione di classifica sempre più anonima, il Prato si rituffa in campionato nel turno infasettimanale programmato per la giornata di domani. La squadra bianco-azzurra nella decima giornata del giorno di ritorno sarà di scena sul campo di Budrio per affrontare i padroni di casa del Mezzolara. La partita avrà inizio alle ore 15. Il tecnico Aldo Firicano non intende abdicare ed ha strigliato a dovere la squadra dopo lo scivolone interno con il Real Forte Querceta. Mastichiamo amaro, anzi amarissimo, perché questa si va a sommare alle altre, ci catapultano in uno sprofondo che in questo momento pare insuperabile. Secondo me invece dobbiamo, forse siamo vicini a uscire da questo momento di crisi, perché se ripetiamo secondo me un'altra buona prestazione, qualcosina in più che si può migliorare già da mercoledì, non sempre ci potrà girare male come questa frangente. Mercoledì ci riproviamo con questa intensità che credo che possa arrivare assolutamente. In questo momento davvero dobbiamo un po' aggrapparci a tutto per arrivare a un risultato che secondo me sarà anche da un punto di vista psicologico la svolta per uscire da questo momento di crisi che però dura da un un po' troppo direi. Per la partita di Budrio il Prato dovrà rinunciare a Gentili e Calamai infortunati, mentre potrà tornare a disporre dell'attaccante Falchini che ha scontato il turno di squalifica e di Coassi che ha smaltito l'infortunio. Per quanto riguarda la formazione da mandare in campo il tecnico Laniero dovrebbe proporre. Piretro in porta, in difesa Masini e Tomi saranno gli esterni con Channamè e Giampa che formeranno la coppia centrale. A centrocampo Spinosa, Minardi e Coassi con Sanat schierato a ridosso delle due punte, Falchini e Napoli. Il Prato vuole ritrovare il successo per dare un calcione alla crisi e mettersi alle spalle le quattro sconfitte consecutive. L'obiettivo playoff può essere ancora alla portata del Prato, ma non sono più ammessi passi falsi.